Orogers ha fatto tanti investimenti, ha fatto tanti ampliamenti, in questi 40 anni di vita si sono accumulate varie necessità e in questo momento stiamo preparando dei nuovi investimenti che occuperanno varie superfici. L'iniziativa di coinvolgere l'Università in questi nostri progetti, in particolare per poter verificare l'impatto delle nostre strutture nell'ambiente, in particolare con tutta l'attenzione che noi mettiamo per quanto riguarda anche non creare problematiche di tipo ambientale, credo che sia molto utile per l'azienda perché ha la possibilità di anche collocare e organizzare meglio le aree di verde e le aree di presentazione dell'azienda in maniera adeguata e per l'Università per allargare la propria esperienza nel campo architettonico al settore industriale, agroalimentare ma industriale in genere, che è un settore spesso trascurato e quindi credo che questo dottorato di ricerca sarà veramente un punto di valore del nostro corso di laurea qui a Cesena perché potremo preparare dei giovani che abbiano delle sensibilità nuove che diventano oggi di grande attualità.